Una domanda che spesso mi viene fatta è quante unità inietto per le varie indicazioni in medicina estetica, parlando di tossina botulinica A. Questa è la mia risposta normalmente. Se inietto Azalur alla diluizione on label di 0,63 millilitri, normalmente per essere molto prudente inietto due unità. In media se voglio avere un risultato buono ma non eccessivo 4-6 unità A. Se voglio avere un risultato importante che è l'indicazione on label data dalla ditta farmaceutica inietto 10 unità. Parlando di Vistabex e Bocutur anche qui se voglio essere molto prudente inietto una unità. Se voglio avere un risultato in media non troppo potente non aggressivo ma medio inietto due unità. Se voglio avere un risultato importante inietto 4 unità. Diluizione ovviamente on label 1,25 millilitri di soluzione fisiologica per Vistabex e Bocutur. Ripeto, diluizione on label per Azalur 0,63 millilitri di soluzione fisiologica.